Per noi la sicurezza sui luoghi di lavoro viene prima, prima delle parole, prima dei numeri e delle promesse. Per noi la sicurezza sul lavoro viene prima ancora del lavoro. Prevedere le migliori condizioni, curando le procedure, gli strumenti, le persone, investendo tempo e risorse nella formazione e nella pratica della sicurezza. La prevenzione è il traguardo delle imprese. Perché la sicurezza viene prima di tutto.